Mario Mangiukic vuol dire perché unisce tecnica, capacità fisiche e a qualità fisica è ancora giovanissimo però insomma ha giocato a coprire più ruoli eccolo qui Piazza applausi che è preciso Alexandro mette giù lo aspettano in due si stacca Piazza che riceve attacca l'aria di rigore poi torna a sinistra da Alexandro bella giocata qui Piazza Piazza sta entrando in questo istante Caicedo con la maglia numero 20 al posto di un può migliorare tantissimo ed è veramente un giocatore che può costituire un attrato attenzione e soprattutto capacità di lettura difensiva Piazza accena il doppio passo Piazza in mezzo per Higuain che non riesce a controllare Pallone deve capire che inizialmente dovrà avere pazienza a mettersi a disposizione della scuola con la punta del piede la tenuta lì che giocatore Higuain al di là del controllo Piazza doppio passo il novantesimo taglia il campo Hernanes Alexandro di testa di prima per Piazza Rugani giù contro due si ferma chiama palla Piazza accontentato occhio a Lemina che sta partendo a destra in mezzo il solito Higuain anche Piani c'è molto alto abbastanza bene è un giocatore universale però in un modulo come questo 4-3-2-1 io lo vedrei benissimo anche come trequartista Higuain al centro se ne è accorto Giacomelli che ha fischiato Lemina Pianic ora di prima per Piazza che passa con il tunnel si lancia da solo Piazza in affanno alla difesa dell'Espagnol Piazza senza fallo si continua a giocare ancora Piazza il cross deviato Piazza una seconda chance con il tacco grande giocata Alessandro per Lemina l'occasione al di là del gesto tecnico proprio la lettura e la vista in maniera un po' superficiale e troppo semplicista Higuain Piani c'è la magia per Piazza all'ultimo con Roberto in uscita Sbagliola è tornata avanti non dimentichiamola anche con l'uomo in meno sta giocando in 10 un attimo di disattenzione forse un calo di concentrazione da parte di Alessandro questa invece l'azione precedente molto interessante con Higuain Piani poi Piazza perfetto nella chiusura Alvaro Gonzales che mette il pallone fuori ma travolge il proprio portiere e allora si perderà ancora qualche istante con Adibala che intanto si sposta sui secondi alla fine della partita Piani Piazza sbaglia il primo controllo poi Norita è entrato in campo e ha cambiato la partita grazie a tutti i nostri spieghi a tutti i nostri spieghi